Wewe ragazzi e bentornati su KinoTV Oggi vi voglio svelare il mistero dell'elemento galassia Visto che me l'avete chiesto in tantissimi Oggi ve ne parlerò Ebbene si raga L'elemento galassia non è altro che l'impulso fasico ottenibile con questo straniero So che questo probabilmente creerà tante incomprensioni E so che molti di voi rimarranno delusi Ma il nome dell'elemento galassia non è attribuibile a ciò In quanto è stato creato da un utente Un youtuber americano che ha messo in giro questa voce dell'elemento galassia buggato Ma in realtà non è altro che il nostro caro e vecchio impulso fasico Ottenibile sì con questo eroe ogni 5 secondi E ogni volta dopo la traslazione fasica Come potete vedere Persino sullo schioppo possiamo ottenerlo Guardate Ecco qua l'elemento galassia Certo È molto molto utile e molto molto forte In quanto i colpi perforano i nemici E possiamo addirittura potenziare un pochino di più le armi a colpo singolo Capite bene cosa intendo Guardate tipo l'idra Però non fatevi incantare da armi con elemento galassia Perché non è un vero e proprio elemento Mi spiace darvi questa brutta notizia ragazzi Però è la verità no? Sarebbe sbagliato dirvi Guardate che esiste veramente l'elemento galassia Però detto ciò L'esplosione fasica Chiamiamola col vero nome Che ha questo vero elemento E non è un elemento Anzi sbaglio anch'io ormai a parlare Perché mi avete confuso le idee E mannaggia Comunque chiamiamola col vero nome L'impulso fasico L'esplosione fasica Guardate un po' Allora Cannone fasico Usare traslazione fasica Fa sì che il tuo colpo successivo con arma a distanza Spari un impulso fasico Infliggendo 93 danni energetici base Perforando i nemici Cambiare o rinfoderare le armi rimuove l'effetto Quindi è questo il suo effetto E abbiamo anche che ogni 5 secondi Il nostro colpo successivo sarà un impulso fasico Che infligge 47 punti danno energetico base Allora raga Innanzitutto sappiate che questo eroe È quello base per l'impulso fasico Voi potete benissimo metterlo come bonus Su qualsiasi altro eroe Comunque Visto che ci siamo Facciamo vedere anche il funzionamento Di questa esplosione fasica Sicuramente un'ottima perk Tra fuori i nemici Ed è molto molto alternativa Per variare anche le nostre armi Dargli Insomma Quella variante in più no? Vediamo quanti zombie riusciamo a far fuori Con un colpo di idra Ricordiamo che l'idra ha anche l'esplosione alla testa Quindi è molto molto p Un'altra esplosione fasica Grazie Un'altra Dunque raga In conclusione guardate Potete avere l'elemento Galassia Tra virgolette Potete avere l'impulso fasico Con qualsiasi equipaggiamento eroe Soltanto che andrà a nostro svantaggio Perché Dovendolo inserire Per esempio con ninja Siamo obbligati a inserire Due stranieri Nella nostra squadra Io ora L'ho creata Giusto per farvi vedere Che era possibile Ma è andato tutto a mio svantaggio È perché ho dovuto togliere a perk Sulla spa Anzi no Ho tolto quella dell'energia e della vita Per mettergli due perk Una sulla pistola Due sulla pistola anzi Perché per ora Ho stranieri che mi potenziano Tutte altre cose Per esempio il piccone Che Cioè va bene Potrebbe anche tornarmi utile Per carità Però Non vedo l'utilità Di inserirlo Sul ninja diciamo È già così È particolarmente sprecata Questa build Ovvero inserendo l'impulso fasico Sul ninja Io vi consiglio sempre Di prestare attenzione Proprio usate calamity Magari che lei è proprio Specializzata sull'impulso fasico E allora vi posso dare anche ragione Però potete anche variare Con qualsiasi altro eroe Attenzione però raga L'impulso fasico Non confondetelo Con l'elemento energia What the fuck Guardate la punta dell'idra Energia E così diventa impulso fasico Non confondetelo Per un elemento Perché abbiamo la differenza Degli elementi Ci sono le armi fisiche Che ovviamente è meglio Utilizzare contro gli zombie fisici Contro i mostri della nebbia Sempre anch'essi fisici Mentre le armi energia Hanno una percentuale in più Contro gli zombie Di tipo fuoco Natura E acqua Una percentuale in più però Perché poi Hanno una percentuale raddoppiata Con le rispettive nature corrispondenti Ovvero se vado a usare Un'arma di fuoco Contro uno zombie di natura Ovviamente li faccio ancora più male Rispetto al fatto Se usassi un'arma energia Mentre Andrebbe ancora A calare Se usassi Un'arma fisica Contro uno zombie di tipo Elementale Diciamo Quindi Ricapitolando Arma fisica Contro gli zombie fisici Mostri della nebbia fisici Ora che sono tornati Li smasher di natura Ovviamente è meglio Tenersi anche un bel mitra energia Perché con tutti questi zombie Di tipo elementale Raga E viene anche difficile Contrastarli Però Non temete Non temete Perché le armi sono studiate Apposta per questo Per farci ispezionare il game Molto molto più profondamente Niente raga Io spero di essere stato chiaro Come al solito Di avervi tolto Questo grande dubbio Mi raccomando Fatemi sapere con un commento La vostra opinione E che dire Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo episodio Mi scuso se questo video È durato veramente poco Ma Non c'era un gran che da dire Come ben sapete Bella bella E questo è tutto Ciao 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 Ciao